E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Team of the Year's continua con i migliori centrocampisti della stagione. Miralem Pjanic, la fantasia al potere. Assist da visionario e prodezze balistiche. Il bosniaco ha trascinato la Juventus allo scudetto con le sue pennellate d'autore. Quadrado, la mette dietro. Quadrado per Pjanic! Che gol! Anche quello di Miralem Pjanic! Sergei Milinkovic-Savic, il bomber dei centrocampisti. Con 12 gol, il laziale è il centrocampista con la media realizzativa più alta in Serie A Team e in Europa. Un talento incredibile che ha fatto le fortune dei biancocelesti. Milinkovic prende la mira al destro! Sergei Milinkovic-Savic! Allan, il mastino. Il brasiliano è il giocatore che ha effettuato più contrasti quest'anno, ben 101. Corsa, grinta, ma anche tanta qualità. Allan è stato l'anima della mediana del Napoli. Tengo l'azione con Cagliaron. Allan, lei solo. Allan va in vantaggio il Napoli. Come l'ama del buro il Napoli. Musei Dio.